Scelgo la scuola di formazione professionale perché imparo facendo ed è una scelta che mi motiva. La formazione professionale assolve il diritto dovere all'istruzione e formazione ed è un percorso a tappe di 3 più 1 4 anni più 1 IFTS più 2 ITS che mi permette di entrare nel mondo del lavoro con le migliori ed aggiornate competenze professionali, sviluppando i miei talenti e le mie aspirazioni. Imparo facendo attraverso la didattica per competenza che sviluppa il percorso in compiti di realtà per acquisire capacità, conoscenze ed abilità. Attraverso le attività in laboratorio, gli stage e l'apprendistato posso sviluppare i talenti ed apprendere in contesti reali del mondo del lavoro. Tutti i percorsi professionali hanno un forte legame con il territorio e rispondono alle richieste attuali e future delle aziende. La scuola di formazione professionale mi aiuta nella crescita personale e culturale, con didattiche innovative come l'apprendimento attivo, ovvero apprendere facendo, l'utilizzo del gioco per sviluppare comportamenti partecipativi, fare a casa ed approfondire a scuola e io sono il centro di questo progetto educativo. La formazione professionale è riconosciuta dal quadro europeo dei titoli e delle qualifiche e favorisce la mobilità all'interno dell'Unione Europea. Infatti, alcune discipline vengono svolte in lingua inglese, sono frequenti gli scambi con studenti di altre scuole professionali europee, si partecipa ai progetti Erasmus per la mobilità. Puoi svolgere la formazione professionale anche in modalità duale, alternando momenti formativi a scuola e in azienda. Scopri il tuo talento! Esperimenta le attività operative in aula e in laboratorio nelle scuole di formazione professionale della provincia di Treviso. Partecipa agli Open Day e ai mini-stage. Visita le scuole di formazione professionale di Treviso.